Musica Domenica 4 aprile, Pasqua di Ressurrezione, è il 94esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 271 al termine. Il sole sorge le 6.45, tramonta le 19.43, la luna sorge le 3.06, tramonta le 11.27. Si costituisce a Venezia la Società Veneta di Navigazione a Vapore Lagunare. Articolo secondo dello statuto, la società ha per suo principale scopo l'esercizio della navigazione a vapore dentro e fuori di Venezia. Le previsioni per domani. Cielo fino a metà giornata, sereno, poco nuvoloso. Poi da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, specie nelle ultime ore. Precipitazioni assenti fino all'inizio della serata. Poi probabilità in aumento fino a medio-bassa sulle Dolomiti. Bassa sul resto delle zone centro-settentrionali e nulla o molto basse altrove. Si tratterà a quel punto di fenomeni da locali a sparsi. Deboli salvo occasionali brevi rovesci. Con fiocchi di neve da quote dell'ordine dei 1200 metri. Temperature prevarranno specie in pianura, minime in calo e massime in aumento.